5 secondi per lasciare like e trovare Leon nelle prossime casse, mi raccomando fallo, non ti costa niente e nel lato dovete cercare di vedere ad un'altra stella, cercello stelle ok niente grazie iniziamo subito nel campo per piacere su altre episodi vi ricordo 5 like per la episodio e poi forse non ci facciamo anche la risposta ecco ci siamo abbiamo già dai morte dai morte dai morte mi piace mi piace mi piace vai abbiamo già 4-5 punti energie dai ci diamo anche il Frank dai ci diamo anche il Frank dai te non mi fai nulla sono colpo si colpo sono Leon, te non mi fai niente dai 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 io lo faccio vedere io lo faccio vedere io lo faccio vedere adesso ti faccio vedere solo ok io penso che ci sono mi piace adesso andiamo a fare e non mettiamo ok a meno questo è vero è vero Oh quanta cento c'è? Via 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 Usciamolo che è un po' fallito Oh no 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 Via 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 Vabbè viaggi Un altro Aiaiaia Via 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 Ok fatti un altro Via 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 Qua c'è un assassino Lei è morto Ok è ucciso Stiamo regolando sempre più tutti gli altri Aspettiamo che quello la perde un po' di vita Vai sta prendendo la vita Perde vita perde vita Ok c'è ucciso Via adesso via adesso Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ho partito Possiamo fare di voi Perché non stiamo colpendo il boss Abbiamo così tanti punti Raga Attenzione ai laser Dobbiamo cercare di colpirlo tantissime volte anche noi Aiuto Siamo in continua così Perfetto Quel carlino là Che cosa fai Morice Abbiamo 19 punti 20 adesso Ok Mi raccomando ragazzi Io vi ricordo Che A 5 like Nuovi episodi di Brawl Stars Domani Quindi ragazzi Affrettatevi a spolliciare E connevidere con tutti i vostri amici Devo Devo Andare in testa Dai Morice pure se Ok sono morti Siamo a 24 26 Mamma che partita Ole Dai dai Devo itare questo Deve andare in prima Deve andare se in testa No L'ho ucciso io Casissimo Però Siamo in continua Siamo secondi Va benissimo Secondi lo stesso Potevamo andare in testa E vincere ne dieci Ma non importa Quindi ragazzi Siamo a Esattamente 4 minuti di registrazione Io direi Perché per oggi Basta Abbiamo fatto questa bellissima partita Lo so che in questo video È poco Quindi magari Ne farò altri Ma solamente una cassetta Quindi Direi di Fare in un'altra E appena abbiamo due casse Ritorno Chiaramente abbiamo fatto Un'altra partita Ed eccoci qua Con le due cassette Ne proviamo una E troviamo dei punti di energia Per Carl Ovviamente ragazzi Non troverò bole Perché troverò Qualche giorno fa Leone Però Lei è veramente insieme a voi 13 monete 5 scelli E 3 bombardine Quindi ragazzi Niente Per questo video è tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Noi ci vediamo 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 Grazie per la visione!